E' pericolosa chiusa la strada per Colloro, siamo a Premosello Chiovenda, ricordiamo che nella frazione risiedono circa 230 persone. C'è un movimento franoso in atto, ieri sera l'abbiamo chiusa in via precauzionale, stamattina è stata confermata la chiusura totale da parte dei tecnici provinciali con un supporto anche del settore geologico della regione Piemonte. Stiamo intervenendo urgentemente con una somma urgenza gestita dal comune di Premosello per iniziare a fare un'opera di disgaggio e di pulizia del versante con taglio piante e rimozione dei massi, quelli più incombenti che potrebbero cadere sulla sede viaria. Domani mattina abbiamo fissato già un ulteriore sopraluogo tecnico per le 11.30 per valutare il versante in modo da verificare dopo il taglio delle piante e decidere come operare. Nel frattempo gli abitanti di Colloro? Attualmente vige, lo ripeto, la chiusura totale della strada. La frana è presieduta da dei volontari della protezione civile che compatibilmente con l'intervento che è in corso da parte dell'impresa, nei limiti del possibile, cercherà di far passare i soli residenti della frazione. È possibile dire quando si potrà risolvere la situazione? Allo stato attuale no, perché non abbiamo una conoscenza tecnica appropriata del versante. Dopo l'incontro di domani mattina sapremo dire qualche dato più certo. Nella giornata di ieri non è mancata qualche polemica nei confronti della provincia? Sì, ho lanciato una polemica perché mi aspettavo che in una situazione post emergenza come ieri ci fosse un presidio tecnico in provincia. Così non è stato. Superiamo questa polemica. Sono un tipo che preferisco essere presente sul campo e non ai tavoli tennici, magari in giacca e cravatta. Dunque operiamo subito nell'interesse comune, provincia e comune. Poi magari nel tempo delle polemiche lo faremo dopo l'emergenza passata. Grazie. Grazie. Grazie.